Intanto qui c'è un palazzo della vergogna, è un palazzo che chiamarlo Tugurio è poco, dove ci sono decine e decine di occupanti abusivi e le cronache denunciano anche spaccio di droga e non solo attività illecite e io ho letto oggi che il Comune di Pescara trasferirà i cittadini assegnatari regolari su Pescara. E gli occupanti abusivi? Perché non è stato fatto nessun sfratto? Perché non è previsto nessun sfratto su Via Lazio a Montesilvano o al Palazzo della Vergogna dove ci sono decine e decine di occupanti abusivi? Seconda cosa, a Montesilvano ci sono tante case Ater, quindi della regione Abruzzo. Bene, la regione Abruzzo, grazie alle mie solite citazioni, ha stanziato 400 mila euro per lo sfratto degli abusivi, tutti i soldi sono finiti a Pescara. E perché nemmeno uno sfratto programmato per le case regionali di Montesilvano? Io fino a questa mattina ho parlato con i vertici dell'Ater, purtroppo non è stato programmato nulla per Pescara. Allora, la regione comanda il centro-destra, il comune di Montesilvano comanda il centro-destra, nemmeno uno sfratto programmato per le case regionali, Ater di Montesilvano. Mi lascia stupita questa necessità dell'amministrazione di presentare un questionario agli abitanti del quartiere. Io sono nata in questa città e vi dico che conosco esattamente quali sono i problemi che gli abitanti dei vari quartieri vivono, perché li vivo anch'io, tra le altre cose. Quindi non ho bisogno di un questionario per sapere che chi vive in questa zona ormai vive in una situazione costante di incertezza e pericolo e tutto quello che consegue alla vita che c'è in questo palazzone. Leggo che portano avanti il progetto dell'Università a Stella Maris. Stella Maris, per chi non lo dovesse sapere, confina esattamente con una parte della struttura di Via Lazio. Quindi ora vengono a dirmi che vogliono fare Stella Maris un'università benissimo, sarebbe un progetto bellissimo e questo potrebbe essere esattamente il campus, cioè gli alloggi degli universitari. Quindi, se è vero che lo vogliono fare e sono felicissima, lo facciano e prendano spunto da questa cosa e ne facciano gli alloggi universitari di questa struttura.